buongiorno il racconto del vangelo di oggi al capitolo 21 di giovanni i primi 14 versetti ci propone secondo l'evangelista la terza apparizione di gesù risorto ai suoi discepoli l'episodio si ambienta nel lago di tiberiade in galidea laddove era iniziato tutto i discepoli erano pescatori ed erano stati chiamati proprio mentre rassettavano le reti su una riva di quel lago vicino a casa propria ed è lì che ritornano pietro per primo dopo che tutto è finito ancora delusi scoraggiati turbati da quanto è avvenuto a gerusalemme nonostante abbiano già visto il signore risorto la ferita della crocifissione e il senso di smarrimento prevale per questo tornano alla vita di sempre in quella società di pescatori che li caratterizzava sono insette che vanno a pescare ed ecco che la vita normale ripropone anche i suoi fallimenti la pesca è inutile nella notte non prendono nulla è un po quello che accade anche a noi quando rimaniamo scoraggiati e delusi dai nostri fallimenti o da aspettative ideali che sembrano non realizzarsi in un mondo come quello di oggi che è così ferito e conflittuale può capitare spesso da dove anche la chiesa è minoranza cioè nella nostra società occidentale potrebbe accadere davvero che ci sentiamo scoraggiati e abbattuti e torniamo alla nostra vita senza più quella velo di speranza che ci era venuto dalla fede ebbene come aveva promesso è proprio linga l'idea è proprio qui nella nostra quotidianità che gesù risorto si rivela e gli appare non è riconosciuto ma chiede ai discepoli di gettare da rete perché non hanno preso nulla finora al lato destro della barca di mattina non si pesca quindi si deve fare un atto di fiducia lo stesso vale per noi se vogliamo sperare in un cambiamento in un rinnovamento della nostra vita del nostro discepolato c'è da affidarsi più autenticamente c'è da lasciare da parte le nostre ragioni le nostre sicurezze i nostri schemi le nostre abitudini e rischiare qualcosa di nuovo c'è da gettare la rete da un'altra parte in un tempo in cui magari non ci si aspetta e quindi questo significa che c'è da andare alla ricerca anche di persone in cui tante volte non abbiamo creduto c'è da riconoscere la presenza del signore risorto in situazioni e contesti che abbiamo sempre pensato non essere inadatti a una pesca miracolosa quello che viene su è tantissimo 153 grossi pesci vuol dire tutte le nazioni il vangelo è per tutti i popoli tutti hanno posto nel cuore di dio e nella chiesa è necessario che anche noi crediamo questo e che nel contesto in cui viviamo testimoniamo di essere discepoli del risorto soprattutto a coloro che non lo hanno mai conosciuto che si sono dimenticati di lui le famiglie che sono divise le persone che si sono allontanate coloro che soffrono tutti hanno bisogno che noi facciamo un atto di fiducia e come pietro ci gettiamo nell'acqua della vita per correre verso il signore e mostrarlo anche a chi non lo conosce è così che mangeremo quel pane o quel pesce che è il nutrimento stesso che viene da dio gesù prepara infatti il banchetto per i suoi anticipo dell'eucarestia gesù prepara il banchetto anche per noi e se c'è da prepararsi insieme camminando e lavorando per tempo non ci spaventiamo quello che è certo è che fidandoci di lui ne avremo di ritorno quel dono d'amore immenso che la risurrezione ha reso concreto ed eterno buona giornata